Ok ragazzi, allora oggi location leggermente, molto meglio, leggermente diversa perché c'è mia figlia che dorme in camera e come promesso, dato che c'è coronavirus e non si può uscire di casa, proverò a fare un po' di video in più. E ne approfitto soprattutto per finire dei lavori che sto rimandando ormai da praticamente un anno. Un anno fa più o meno ho fatto un matrimonio e il problema è che poi ho aperto partita IVA e non sono più riuscito a finirlo perché era un matrimonio che ho fatto a gratis, quindi purtroppo hanno preso la precedenza ovviamente ai clienti paganti. Purtroppo lo sapevamo che sarebbe andata un po' così, insomma non avevamo nessun tipo di aspettativa né io né gli sposi perché come vi ripeto era un progetto fatto gratis, però adesso è il momento perfetto per finirlo e mandarglielo perché poverini ormai a maggio è quasi un anno. Ok quindi adesso vi farò un timelapse pazzesco di me che lavoro e poi parleremo del perché, non dico fondamentale ma è molto utile utilizzare monitor per editare foto, video, la lavastoviglie. E quindi poi vi mostrerò il mio monitor e vi dirò perché secondo me è un ottimo monitor. Ok quindi a quanto pare ho finito il video, manca solo un pelo di color grading, un paio di scene, adesso devo rifinirle e ritoccarle e entra in gioco il monitor di cui volevo parlarvi, adesso vi spiego un po' tutto quanto. Allora ragazzi BenQ PD2700U4K, questo è il mio monitor. Poco tempo fa uno di voi mi ha chiesto di parlare del monitor ed eccoci qua. Allora perché uso un monitor? Per due motivi, il primo è la comodità perché questo è un 27 pollici, il mio Mac è un 15 pollici e quindi potete capire da voi che è molto più comodo editare su uno schermo grande. Uno perché hai tutto più grande, due perché è molto più facile trovare le cose senza dover stare a spulciare oddio dov'è questa cosa, dov'è quell'altra cosa, quindi ci siamo capiti. Altra cosa super super importante sia che voi siate fotografi o videomaker è l'accuratezza dei colori. Questo monitor ha un 100% sRGB che vuol dire che quando io andrò a esportare le mie foto o i miei video sono sicuro che rispetteranno al 100% i colori che io ho deciso di dargli e quindi quando andrò a caricare le mie foto su Instagram, i miei video su YouTube o tutte queste cose qua sono sicuro che sarà tutto preciso come volevo io. Allora, questo monitor è un buon monitor e anche relativamente economico perché viene più o meno sui 700€ e come sappiamo se volete un monitor con i controcazzi bisogna spendere molto di più. Ad esempio per un Eizo spendi praticamente il doppio per un monitor più piccolo. Questo qua è un monitor 4K però ho notato che quando edito video a 4K 10bit molto spesso i video mi vanno a scatti. Non so se sia dovuto a qualche impostazione strano perché il computer non riesce a starci dietro mi sembra un po' impossibile però boh spero sia una questione di monitor. Ma devo dire che mi trovo super bene adesso vi faccio vedere un po' com'è l'interfaccia. Allora, come potete vedere qua sto editando il matrimonio e questo è quanto è grande il monitor. Insomma, come potete capire da voi lì ho tutte le mie clip che posso facilmente trovare e capire che clip mi serve, dov'è eccetera eccetera. La timeline bella grande, gli scopes belli grandi e anche il pannello della color. Adesso ho aperto quella perché sto facendo la color e quindi super top. In più qua sotto abbiamo tipo il menu dove possiamo scegliere anche ad esempio la modalità dell'immagine. Io ce l'ho impostata su srgb, non so se si vede. Si, si vede. srgb però c'è hdr, rex 709, cad cam, animation, low blue light, darkroom e queste sono le varie cose. Io lo tengo sempre su srgb così sono sicuro che è tutto a posto. Mi sento di consigliarvi questo monitor? Assolutamente sì per due motivi. Uno perché è grande abbastanza e quindi abbiamo tutto bene sotto controllo, possiamo editare senza nessun tipo di problema. Secondo motivo per l'accuratezza dei colori. Ho notato che questo monitor qua da quando lo uso i miei video sono migliorati di 10 volte perché è molto molto più facile fare color correction e color grading. Quindi se volete prendere sul serio quello che fate, sia che facciate foto, sia che facciate video, sia che facciate i grafici, secondo me questo è un ottimo ottimo investimento anche perché al giorno d'oggi praticamente tutti usiamo portatili ma sappiamo bene che la comodità di un monitor è qualcosa di pazzesco. Io quando sono a casa al 99% delle volte per editare uso il monitor e quindi mi sento di consigliarvi questo qua che conosco e che utilizzo. Se avete qualche domanda specifica su questo monitor ricordatevi di farmela nei commenti e non in privato come fate sempre. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, seguitemi su Instagram, un video molto rapido, un po' diverso dal solito ma se voglio fare video un po' più spesso bisogna anche un po' tra virgolette adattarsi. E niente ragazzi, ci vediamo super presto. Peace! Ciao! 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 Ciao!